WELLA WELLA A TUTTI RAGAZI E BENVENUTI AD UN MIO NUOVO VIDEO io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio rispondere a una delle domande che mi fate più spesso durante le mie live la domanda ragazzi è questa mi chiedete Xyuder come si fa a portare lo schermo del cellulare sul computer quindi a visualizzare come sto facendo io lo schermo del nostro dispositivo sul pc beh ragazzi ci sono diverse soluzioni ce ne sono veramente veramente tantissime ci sono soluzioni online quindi inserendo i dati del vostro dispositivo e installando un'applicazione direttamente dal browser potete vedere il vostro desktop ci sono dei software e io mi sento di consigliarvi uno forse il migliore software con cui mi sono trovato bene e con il quale registro oramai da quasi dieci mesi ragazzi il nome del software l'ho scritto anche nel titolo lo vedete anche al mio fianco si chiama VISOR V-Y-S-O-R è un software veramente molto molto leggero non è un software gratuito ragazzi attenzione se voi lo scaricate e lo fate funzionare nella versione gratuita ogni tot vi appariranno 5 o 10 secondi di pubblicità generalmente 5 ma in realtà la potete schippare io vi consiglio se per caso vorreste intraprendere il discorso un po' più serio di mostrare il desktop del vostro computer del vostro telefono sul computer di acquistare l'abbonamento mensile che costa solamente 2 dollari e 50 e ne vale davvero davvero la pena allora ragazzi come funziona VISOR cosa bisogna fare per avere quello che vedete qua voi cioè il nostro desktop del cellulare sul computer la prima cosa da fare ragazzi e qua ci andiamo a spostare subito sul nostro browser è aprire appunto una finestra di google e digitare V-Y-S-O-R VISOR ovviamente il primo risultato www.visor.io è quello che ci interessa andiamo a cliccarci sopra e molto intuitivamente appare già la finestra principale la home page del loro sito web con il tasto qua vedete in bianco download quindi noi andiamo a cliccarci sopra senza nessun problema si aprirà una seconda finestra dove ci chiede per quale sistema operativo vuoi installare VISOR allora gli diciamo Windows ovviamente chi ha Mac metta Mac chi ha Linux metta Linux e noi avremo la nostra il nostro file che si chiama Windows visor trattino win32 trattino ia32.exe pronto per essere installato pesa solamente 47 mega quindi molto molto leggero ma quello che a noi interessa ragazzi è fare un altro passaggio quindi abbiamo appena scaricato la nostra il nostro file divisor lo andiamo a prendere nella nostra cartella download e lo andiamo ad installare adesso non vi faccio vedere ancora niente perché c'è un passaggio più importante che dovete sapere vediamo se trovo l'icona così sul computer ecco io ce l'ho in realtà già qua così io posso mettervela a non ve la posso mettere c'è un'icona che apparirà sul desktop comunque quando l'avrete installato questo è come fate per tutti i programmi ma non cliccateci sopra ci spostiamo invece sul nostro dispositivo perché visor ragazzi deve essere installato due volte o meglio devono essere installati i due software di visor il primo è quello che abbiamo appena fatto e quindi abbiamo installato sul computer l'applicazione principale il secondo invece ragazzi è l'applicazione che va installata sul nostro dispositivo quindi come vi ho già detto come sapete meglio di me apriamo il play store digitiamo molto tranquillamente visor vediamo un pochettino visor android control on pc si aprirà ovviamente la sezione relativa al nostro visor ed è l'applicazione per cellulare a voi non interessa fare nient'altro l'ha installato ovviamente io ho il tasto apri perché ce l'ho già installata l'ha andata ad installare e la lasciate lì non credo che vi serverà mai aprire questa applicazione dopodiché ragazzi c'è un altro passaggio fondamentale da fare vi devo dire che il vostro cellulare per poter essere utilizzato da visor deve avere il debug usb abilitato perché se non lo avete visor non riesce a prendere le informazioni necessarie per trasmettere lo schermo del vostro dispositivo sul desktop ma prima di dirvi come si fa ad averlo come debug usb io vi ricordo ragazzi di mettere un bel like se vi sta piacendo anche questo tutorial fatemi un pochettino vedere se vi interessa continuare questa serie dei tutorial per android mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale stavamo dicendo ragazzi di andare su impostazioni del nostro dispositivo e ci dobbiamo spostare fino in basso dove c'è impostazioni avanzate da impostazioni avanzate fatemi ricordare che anche io non me lo ricordo mica tanto accessibilità no in porca miseria porca momento on momento no noi l'impostazione avanzata era info sul telefono dovete andare su info sul telefono ragazzi e dove c'è il numero di serie premere otto volte sul numero di serie a me appare la scritta non è necessario sei già uno sviluppatore voi premete sette o otto volte ripetutamente il numero di serie del vostro dispositivo allorché vi apparirà nel menu l'opzione impostazioni avanzate quelle che vi sta opzioni sviluppatore scusate opzioni sviluppatore andiamo a cliccare si apre proprio tutto un menu grandissimo e nuovissimo che non avevamo accesso prima di fare otto volte il tap sul numero di serie la cosa che a noi interessa è la voce che andate a vedere qua ragazzi dove c'è scritto debug usb molto semplicemente con uno swipe sweep swish del dito andiamo ad attivarlo in modo che il nostro telefono sia abilitato al debug usb detto questo ragazzi in linea di massima in linea di massima tornando sul vostro computer vediamo se io riesco a farvi vedere un attimo il desktop del mio computer e se io faccio cattura schermo cattura schermo ecco qua possiamo vedere possiamo vedere il computer ecco adesso vi darà un po fastidio ma voi non preoccupatevi lo faccio per farvi capire se io mi sposto diciamo che prendo l'icona di visor questa è quella che voi avrete come faccio a farvela vedere è già giustamente io ho già il telefono acceso quindi allora datemi un secondo che togliamo il mio telefono in modo che per voi è più facile capire come funziona andiamo sul nostro sulla nostra icona eccolo qua visor che è quella che ho appena portato voi l'avrete già ovviamente sul desktop perché l'avrete installato lì una volta che noi clicchiamo due volte su visor apparirà il programma vero e proprio adesso lo andiamo a spostare in modo che voi lo possiate vedere molto più chiaramente e anche la mia brutta faccia eccolo qua ragazzi il nostro visor si presenta così non abbiate assolutamente timore vi spiegherò adesso tutto praticamente lui se già ha trovato il vostro dispositivo come vedete sotto la scritta choose a device avremo avremo il nome del nostro android in questo caso il mio si chiama cam l21 e c'è il seriale va bene se noi andiamo a cliccare su view che è il tasto verde come potete vedere si apre appunto lo schermo del nostro android lui fa la connessione parla ovviamente ragazzi scusate mi sembra sottointeso dovete collegare il telefono al computer se non volete usare la versione gratuita perché se voleste usare la versione gratuita invece c'è un tastino adesso noi andiamo a chiudere di nuovo il nostro come si dice il nostro la nostra il nostro desktop del telefono e noi abbiamo anche l'icona come vedete del wireless se voi avete la versione normale quella completa possiamo cliccare sul wireless collegare il nostro computer ovviamente alla connessione wireless e il nostro telefono alla stessa connessione in modo che possano interfacciarsi senza aver bisogno del cavo c'è un altro tasto molto interessante che è anche fondamentale qualora non dovreste avere non doveste avere un'immagine buona del vostro dispositivo che è questo tasto di fianco all'icona del wireless dove c'è una rotellina che è il classico tasto delle impostazioni come vedete sopra appare il nome del nostro dispositivo non ci interessa abbiamo pin title bar come vedete io li ho deselezionati tutti perché questa è la barra in alto dei bottoni che rimane sempre attiva dopo ve li faccio vedere la navigation bar non ci interessa invece ho abilitato questa voce che si chiama always on top questo a me serve quando vado a fare le live vuol dire che qualsiasi cosa si possa anche accidentalmente aprire non va a coprire lo schermo che stiamo trasmettendo che rimarrà sempre on top quindi davanti a tutto abbiamo sotto poi image quality che è la qualità appunto è dell'immagine il bitrate quindi la frequenza con cui viene mandata la qualità dell'immagine io la metto al massimo che è 4 megabit ma possiamo anche se avessimo una connessione lenta diciamo che se andate con una dsl potete andare sui 750 ma anche sui 500 si vedrà un po più male però comunque si vedrà senza troppissimi problemi direi ragazzi di lasciare la risoluzione il video decoder e il size and destiny completamente di default io ci ho provato a giocare non vi serve praticamente a nulla anche perché non riuscirete a capire cioè non ha senso si vanno a rovinare le risoluzioni del telefono a meno che non ne troviate una fatta apposta per il vostro ma io mi sono sempre trovato bene senza modificare nulla quindi save e come vedete ragazzi sembrerebbe che tutto funzioni al meglio ma non è finita qua non è finita qua voglio ricordarvi una cosa c'è un problema che potrebbe incappare nella vostra prova di visualizzazione dello schermo sul computer cioè se voi andate a vedere ragazzi sotto qua qua come vedete c'è scritto status sotto c'è scritto windows user need adb driver vuol dire che sono dei driver ragazzi che dobbiamo installare se il nostro dispositivo non venisse riconosciuto si chiamano adb driver io vi consiglio all'inizio provate pure a cliccare sul link che viene proposto e infatti si apre un'altra pagina adesso la andremo a vedere subito datemi un secondo che è questa qua ragazzi scusate se si vede leggermente male andiamo un attimo a togliere in modo che lo potete vedere meglio no aspetta cattura lo schermo cattura la finestra vabbè è questo qua ragazzi universal eccolo qua adb driver è il link che viene aperto una volta che clicchiamo sopra quella scritta che vi ho appena fatto vedere sono importantissimi perché questi sono dei driver appunto che permettono l'installazione perfetta del vostro dispositivo e di farlo interfacciare correttamente con visor beh ragazzi io spero di aver risolto tutti i vostri dubbi come avete visto è molto molto semplice riuscire a portare lo schermo del vostro intanto qua non si capisce bene boh lo schermo la chiudiamo così la chiudiamo mi metto più di qua lo schermo del vostro dispositivo sul desktop io spero che questo tutorial vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video vi ricordo di mettere un bel like e di iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao